... Incidente nella serata di domenica 4 luglio, poco prima delle 20.30, sulla strada provinciale 41 nel territorio di Ciconio. Un'Opel Corsa condotta da una ragazza di 31 anni di Bosco Nero è uscita di strada finendo nel fosso lato careggiata. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo Canavese e Castellamonte, i vigili del fuoco di Rivarolo e Ivrea, la Guardia di Finanze e i carabinieri. La ragazza è stata estratta dalle lamiere della vettura dove era rimasta incastrata. Dopo le prime cure è stata trasportata all'ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita. In corso gli accertamenti sul sinistro. In corso gli accertamenti sul sinistro. In corso gli accertamenti sul sinistro. In corso gli accertamenti sul sinistro.